Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Roma, rallentamenti per un veicolo in avaria tra Firenzuola e Barberino. Sulla A11 per traffico intenso in direzione Firenze, code tra Sesto e Peretola, tra Montecatini e Pistoia e rallentamenti tra Prato Ovest e il Vivio per la 1. Sul raccordo Siena-Firenze per lavori, rallentamenti in entrambe le direzioni tra San Casciano e Imprunita Gravenchianti. Sulla Fipilì in direzione Mare, code in uscita a Santa Croce, in direzione Pisa, code a tratti tra Pisa Aeroporto e Pisa Centro. Per lavori di messa in sicurezza del viadotto Ponzano, restringimento di carreggiata tra Empoli ed Empoli Est in direzione Firenze. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!